Se volete acquistare i crediti FIFA a basso prezzo andate su fifacoin.com e avete il 5% di sconto con il codice Granos Cioè, figa! Bella che ti trovano insieme Granos e siamo tornati con un nuovo video dell'Ottitudine One E oggi ci apprezziamo a cominciare la nuova stagione, la divisione 9 Perché ti amo, la bellezza di... Intanto le luci non sembrano accese ma ci sono accese, tranquilli Allora, questa è la nostra formazione, abbiamo comprato molta gente Abbiamo comprato Salah, Marchetti e Amsic La cosa che noi volevamo risparmiare era Guarin Però Amsic l'abbiamo trovato a 4.900 Mentre Guarin costava 21.000 e passa Quindi abbiamo detto, vabbè, ma io non avevo oggi che un Guarin domani E lo stesso vale per Marchetti Volevamo prendere Andanovic Però Marchetti l'abbiamo trovato a 1.000 E Andanovic costa 20.000 Adesso noi vorremmo cominciare a risparmiare per Caceres, difensore Perché Manolas e Bonucci e Chiellini sono troppo inarrivabili Infatti è figo, lo chiedi così, è fantastico Sì, infatti, aspetta Ok, ora si dovrebbe sentire un po' meglio Hey! Hey, comunque, ehm, sì Volevamo comprarsi Caceres Perché almeno è sempre meglio oggi in Caceres oggi Che Manolas domani E niente, quindi iniziamo con la partita Nuova divisione, divisione 9 Però diciamo che vi stiamo ascoltando parecchio Perché Salah ce l'avete consigliato voi e l'ho preso Marchetti ce l'avete consigliato voi come portiere E' buono, in effetti E Amsic perché a me mi piace Allora, vediamo la sua squadra Ecco Ecco, noi stavamo di bella la sua squadra Che sta andando meglio E poi, ste cose Cioè, porco, cane Oh, ti ho capito E' medelle, no, medelle pure Oddio, con E Con E Con E Il tiro Che è? Gli ha tirato un panza Ma fanno i diritti di merda Noi passamola perché è altro Più lenti Con E E on E 1 a 0 Mamma mia, Taider Il primo gol della nuova divisione Illumina Taider Cioè, la fine abbiamo contrato Amsic Dalla Per esempio i soliti Con E, Taider Amsic Può ripartire La ripartenza Può ripartire con la ripartenza Sotto per Con E 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 Che ti Dai che gol No, no E' già fatto No Che cazzo Comunque con E non c'è il tiro Sala Il tiro Un tiro Ma dove è entrata Ma dove è entrata Ma dove è entrata Ma lo sa manco lui Guarda, bacialo in terra Ma non c'è la Perché lo chiami Sala Verso, verso la Mecca Perché lo chiami Sala Perché è figo Sala Sala Perché ripete Sala tante volte E' brutto Ah Oh, che cazzo ha fatto Tu devi continuare a seguirlo però Ha continuato a seguirlo Ma è andato lungo lui Orca puttana E' rimasto fermo No Perché così fuori La dava Sempre a quello più lontano Ancic E dai però Che palle sti pali Oh Che palle Palla Oh Chi è? Eh, anzi Palla Palla Con E Sempre lui Che è sempre lui Che cazzo Con E quando fuori Andi No Ma che cazzo Fuori gioco Fuori gioco Fuori gioco Ho capito No, è vero Ma perché mi ha cambiato il giocatore Sei rite Porca puttana Vabbè Molina E' vero E finisce qua Manca il tempo di strippare Vabbè raga Prima partita è andata bene È già la terza volta Che cambia il giocatore Che rite Dopo Comunque Quando sono state situazioni Premiamolo tutti e due Quadrato Così Chi è Vabbè Comunque raga Bella partita Come ci avete consigliato Abbiamo attivato il bonus In cui ci dà mille In ogni partita Così facciamo un po' di soldi Quindi abbiamo Prendito 1.5 Minchia E dai Andiamo alla prossima Ma per quante partite è? Per 15 Però poi Non posso riattivarla Ancora Abbiamo dovuto fare un po' di gambe Abbiamo messo Abbiamo tolto sia Fiamsic che Salah Sì Però per fortuna abbiamo trovato questo qui Che non c'ha una grande squadra Diciamo Anche se però c'ha il 100% intesa C'ha tutta È come la nostra serie A Perché fa la liga forte E' un fortissimo E' nei migliori Vabbè Fa' che vada solo Fa' che vada solo No Vabbè Sto porco cane Avevo fatto tutto giusto Avevo fatto Mannaggia a me Ma che merda Gli arriva da palla No vabbè No vabbè Ma come cazzo si fa? E vabbè Piangor così Andrè Gomez Che cazzo sei? Che puttana Eh Oh Buona Fuori gioco tanto No Palo No Porca troia Tira Fuori gioco No vabbè Vaffanculo La sofferenza Poi E spieghi perché Ci stanno tre difensioni nostri là La da La da lui Cioè Ieri Carcavo mi sono messo sul palo Ho preso comunque i gol Madonna Non riescano a fare un passaggio di prima Oh Un passaggio di prima Porca troia Tagli 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 Non devi far il pallonetto Porca puttana Non ci ha arrivato Ma hai visto? Eh ho capito Però non lo devi fare Perché quello lì Per far il pallonetto Ha rallentato Invece tu la potevi stoppare E tira Oppure tira al volo Non c'è il dato L'ho tirato Allora di testa Levate la mente Devi far il pallonetto Cioè E' una cazzata Non serve a niente Il pallonetto di testa Ci segnavi E manco ci arriva Ma non ce la fai a farlo Capisci che non ce la fai Perché non ce la fai Perché non ce la fai Proprio De Guzman De Guzman De Guzman Mo tira Stava fuori Ma che hai fatto Tutta sta stronzata Guardate Non riesce a fare un passaggio E questo è il gioco che sta lontano Invece da andare accanto No Io dico Mamma mia Marchetti Comunque sono forte caparo Così io Cioè Il bug del cross La Sofì fa due bug Questo E il rigore Cioè No no Quando vanno in aria Tu non li puoi tocca E quella è la cosa brutta Cioè Allora vanno come gli pare E te Non li puoi tocca O ti devi far superare per forza E quindi segnano Ma perché Perché non la prendi Perché Io sto più facendo Guarda 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 Non ce voglio crede Cioè Stavate Ma porca madonna Scrittata Non si sa cosa Cioè Stavartita Incredibile qua Un rimpallo Lui in porta Si trova Cioè E vabbè Qui ci ha detto Vabbè Vedete che non siete Che non è scrittata Però tanto Poi comunque La palla ritorna E invece è scrittato Perché era già deciso Che succedera questa cosa Capito Vabbè dai E 4 a 0 Perché no Comunque dai Abbiamo iniziato bene Perché comunque Tre punti in due partite Si può fare Non è male Adesso Miglioriamo ancora la squadra Tanto ci prendiamo Questi altri mille crediti Si ma già che io non ce lo voglio più Compramo Balutelli Quanto costa Non si muove proprio Non si muove Vediamo quanto costa Balutelli Forse lo compramo Lasciamo un like Se vi è piaciuto Noi ci vediamo Al prossimo video Lasciate un like Se vi è piaciuto Come ho già detto E niente Ragazzi Ora cerchiamo di migliorare Un po' la squadra In vista del prossimo Ma è perché Era la divisione 9 Dobbiamo passarla tranquillamente Perciò